Questa è una prova molto ardua, piano rotto Questo sicuramente lo staccherò Il cassetto non ha più il fondo Ci sono gocce, colature Comunque promette bene Stacco tutti i pezzi che vanno salvati Ed ecco qui, stacco anche l'impiallacciatura Con il fond termico Adesso assesto il tutto con la mia sparachiodi Guardate che carino All'interno una bella mano pura Di Beautiful, un colore eccezionale E sull'esterno invece Dappertutto una bella mano di sugar paper Sulla superficie E sul cassetto un bel decoupage Lo incolliamo con il mio Protettivo satinato Ora faccio un décapé su tutta la struttura Anche sul decoupage Cera abbondante a protezione Et voilà Se vi è piaciuto mettete il like Se vi è piaciuto tantissimo Iscrivetevi al mio canale YouTube Elisa e Magic Pale Dove potrete trovare tutti i tutorial integrali Di questo e molti altri restyling Ciao 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 Grazie a tutti.